Camorra colpa al clan che comandava Scampia 37 le misure cautelari eseguite dai carabinieri sgominata la cosca degli abbinante che gestisce H24 lo spaccio e le estorsioni nelle roccaforti della Camorra tra i rioni Monte Rosa Ises e nella cosiddetta zona della 33. Napoli ferimento estesa duello tra clanni in città all'ospedale Pellegrini ricoverato un 28enne raggiunto da colpi di pistola all'addome è in codice rosso ma non è in pericolo di vita si indaga anche su una seconda sparatoria in corso Arnaldo Lucci recuperati diversi bossoli. Campi Flegrei i sindaci no all'allerta arancione i primi cittadini oggi a Roma al vertice con Musumeci ma il ministro in commissione ambiente della camera non cambia la linea si va verso l'innalzamento dell'allerta come ipotizzato dalla commissione grandi rischi. San Giuliano nel Salernitano valorizzare i tesori d'arte il ministro a Buccino per la riapertura del museo archeologico nazionale dopo Palazzo Fuga Napoli dove nascerà il più grande polo culturale d'Europa puntiamo a valorizzare i tesori delle aree interne della Campania. Sannio così si formano i lavoratori del futuro Confindustria Benevento e Regione in campo per il corso di formazione di operatore meccanico in collaborazione con l'istituto La Tecnica. Il presidente Vigorito le imprese devono scommettere su formazione e marketing. Ariano coppia intossicata Angelo è tornato a casa dimesso dal Cotugno di Napoli l'imprenditore di Ariano Irpino dopo la tragedia in cui ha perso la vita sua moglie ancora attesa per gli esami sugli alimenti che avrebbero provocato il caso chiesto il dissequestro della pizzeria. Erano questi i nostri titoli. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione regionale di 8 Channel. Ebbene lo avete sentito in primo piano la cronaca con l'operazione contro il clan abbinante a Scampia. 37 le misure cautelari della DDA negozianti costretti ad acquistare da imprenditori scelti dal Sodalizio. Intanto a Caevano questa mattina la visita del ministro Luca Ciriani. Facciamo il punto nel servizio di Paola Iandolo. I carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 37 persone vicine al clan abbinante attivo nel quartiere di Scampia in particolare nelle roccaforti del rione Monterosa e Isese nella zona conosciuta come 33. L'ordinanza colpisce anche gli ultimi esponenti di spicco del clan che fino ad oggi godevano della libertà. Sono proprio loro che avrebbero abusato del nome familiare per affermare la propria influenza nel quartiere. Le indagini hanno evidenziato come il clan sia una struttura organizzata e gerarchica con i ruoli chiaramente definiti mirata a garantire la continuità e la sistematicità del traffico di droga che veniva condotto senza interruzioni nelle piazze di spaccio fisse e mobili. Inoltre è emerso il controllo capillare nei territori dei rioni considerati casa nostra dove tutte le attività dovevano essere sottoposte all'approvazione del clan per garantire rispetto per la famiglia. Le indagini hanno anche rivelato estorsioni perpetrate ai danni di imprenditori ed esercizi commerciali e l'operazione di oggi conferma dunque la presenza continua e costante dello Stato. Anche a Caivano questa mattina vi è stata la visita del Governo con il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani che ha visitato il Parco Verde. Il Ministro accompagnato dal commissario straordinario ciciliano ha incontrato Don Maurizio Patriciello e poi è stato all'Istituto Superiore Morano, al centro del Finia e nella sede del commissariato di governo. Il Ministro ha voluto ringraziare Don Patriciello per l'opera svolta in favore del quartiere. Due sparatorie nella movimentata notte napoletana ai carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti all'ospedale Pellegrini dove è raggiunto il 28enne Luigi Scapolatiello, già noto alle forze dell'ordine residente all'Arenaccia. Ferito all'addome da colpi di pistola il 28enne in codice rosso ma non in pericolo di vita. Al momento non ha saputo fornire ancora elementi utili alle indagini e neanche il luogo in cui gli è stato teso l'agguato. Nel frattempo i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti anche in corso a Arnaldo Lucci, angolo via del Sebeto, dove era stata segnalata l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. In effetti in strada i carabinieri hanno trovato diversi bossoli calibro 9x21, probabilmente segno di una stesa. Anche in questo caso sono in corso le indagini. Parliamo ora dei campi flegrei. Il ministro della protezione civile Musumeci oggi in audizione alla Camera ribadisce. Prepariamoci ad alzare il livello di allerta nel pomeriggio invece la riunione con gli amministratori a Palazzo Chigi. Ce ne parla Rossella Strianese. A poche ore dal confronto con i sindaci dei campi flegrei il ministro della protezione civile Nello Musumeci in audizione alla Camera questa mattina ha ribadito la possibilità di un innalzamento del livello di allerta da giallo ad arancione sulla base della relazione degli esperti della Commissione Grandi Rischi. In particolare la Commissione ha ritenuto che il quadro complessivo, pur se non di unibico a interpretazione, faccia comunque emergere la possibilità che i processi in atto possano evolvere ulteriormente. La Commissione, pertanto, ha ritenuto opportuno che sia le attività di monitoraggio da parte dei centri di competenza, sia le attività di prevenzione da parte delle varie componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile si intensifichino ulteriormente, dice la Commissione, si intensifichino le esercitazioni e si preparino all'eventuale necessità, dico testualmente, di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore rispetto all'attuale giallo. La zona rossa coinvolge mezzo milione di persone e la popolazione va informata senza reticenze omissioni, ha aggiunto Musumeci, che ha concluso con un avvertimento. Occorre essere consapevoli del fatto di vivere su un territorio che si espone ad alcuni rischi naturali, il che non significa che il rischio sia imminente, potrebbe non verificarsi mai, ma noi che amministriamo la cosa pubblica abbiamo il dovere di prepararci al rischio peggiore e poi brindare quando il rischio non si determina. Il Ministro San Giuliano questa mattina a Buccino nel Salernitano per la riapertura del Museo archeologico nazionale dopo Palazzo Fuga a Napoli, dove vogliamo realizzare il più grande polo culturale d'Europa, siamo impegnati a valorizzare i tesori della Campania, ha detto l'esponente del Governo. Sentiamo. Dopo ieri a Napoli, tappa nel Salernitano per il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano. L'esponente del Governo ha presenziato alla riapertura del Museo archeologico nazionale dell'antica Volcei a Buccino, un'occasione per San Giuliano di ribadire l'importanza di valorizzare i tesori culturali delle aree interne. Buccino poi ha un vantaggio in più perché insiste su un'area archeologica molto importante e molto rilevante, sulla quale noi vogliamo lavorare nel segno della valorizzazione. E poi dobbiamo, come dire, incrementare il turismo nelle zone interne che hanno una grande offerta culturale da poter mettere sul tappeto. Quest'estate il fenomeno dell'affollamento turistico in alcune località ci ha fatto capire che noi dobbiamo lavorare per sviluppare anche altre aree della nazione. Da Napoli a Buccino il minimo comune denominatore è la valorizzazione dei tesori del territorio. Ieri abbiamo inaugurato i lavori di quella che sarà la più grande infrastruttura culturale d'Europa, 140.000 metri quadri, dove troveranno sede il raddoppio del Museo archeologico nazionale. L'Università Federico II con le sue scuole di eccellenza è una grande libreria per i giovani. A chi le fa notare che lei è così spesso presente in Campania cosa le dice? Dico che se è un delitto amare la propria regione, io commetto il delitto di amare la mia regione, di amare i miei territori, di amare i miei concittadini e voler lavorare in maniera fruttuosa e con grande impegno, anche con grande umiltà con loro. A Benevento Confindustria e Regione presentano il primo corso di istruzione e formazione professionale di operatore meccanico. Il presidente Vigorito rilancia l'impegno degli industriali sanniti in favore dei giovani. Il servizio di Imma Tedesco. Quando sono stato eletto io dissi che il mio operato sarebbe stato rivolto a scendere l'attenzione dell'uomo e l'uomo parte dai giovani. Un impegno che il presidente di Confindustria, l'avvocato Arresse Vigorito, ha ribadito in occasione della presentazione del primo corso di operatore meccanico a Benevento. Un percorso di istruzione e formazione professionale della durata iniziale di tre anni che è stato illustrato questa mattina nella sala conferenze del Centro per l'impiego. Io stesso visitando alcune scuole ho potuto verificare che ci sono delle eccellenze notevoli e credo che questi tentativi, queste organizzazioni, sia veramente la stata giusta per recuperare il massimo delle eccellenze che produciamo e poi uno magari andrà all'estero ma ci andrà a letto lì. Obiettivo del corso infatti è far incontrare il mondo della formazione e quello delle imprese combattendo la dispersione scolastica. La dispersione formativa nel senso più ampio della parola è un problema che afferisce tutti i settori e quindi con questo corso stiamo cercando di colmare una lacuna importante sia per il mondo delle imprese che per il mondo della scuola. Pensiamo di dare a loro un percorso pratico e consegnarli al mondo del lavoro tra quattro anni con un diploma professionale e con delle competenze. E dal Sagno l'assessore regionale Armida Filippelli rilancia la sfida per la formazione e assicura. Noi ne faremo tanti di corsi, sempre in collegamento con la vocazione dei territori. Quando ho iniziato il mio lavoro erano poche centinaia di ragazzi, 180 che facevano i corsi e adesso siamo a 3.000, voglio arrivare a 10.000. Il Consiglio di Stato ha sospeso il provvedimento del Tar Campania che in via cautelare bloccava sul territorio regionale gli effetti del decreto sul dimensionamento scolastico accogliendo in via cautelare il ricorso presentato dalla Regione. I giudici di Palazzo Spada hanno accolto le tesi dell'Avvocatura dello Stato a sostegno delle ragioni dei Ministeri dell'Istruzione e dell'Economia. Pur nel rispetto che si deve ad ogni pronuncia giurisdizionale, non può ritenersi condivisibile che il Tar Campania si sia dichiarato competente su un decreto adottato di concerto tra due Ministeri con i criteri per la definizione dell'organico dei dirigenti scolastici sul territorio nazionale, aveva detto il Ministro Balditara dopo il pronunciamento del 30 ottobre dei giudici amministrativi campani. Per il 21 novembre è atteso sulla questione del dimensionamento anche un pronunciamento della Corte Costituzionale, mentre il Consiglio di Stato dovrebbe esprimersi sul merito del caso Campania il prossimo 28 novembre. È stato dimesso dall'ospedale Cotugno di Napoli ed è tornato a casa Angelo Meninno dopo la tragedia di una settimana fa venuta da Ariano in cui ha perso la vita sua moglie in circostanze tutte ancora da chiarire. Vediamo gli ultimi sviluppi sulla vicenda con Gianni Vigoroso. Sta bene ed ieri sera è tornato a casa tra il calore dei familiari Angelo Meninno dopo la tragedia di martedì scorso al Frangipane ad Ariano Iorpino in cui ha perso la vita sua moglie Gerardina Corsano in circostanze ancora tutte da chiarire al vaglio degli inquirenti. I familiari hanno chiesto espressamente di essere lasciati in pace soprattutto nel giorno dei funerali di Gerardina che come ha affermato stamane l'avvocato Gerardo Giorgione dal Tribunale di Benevento potrebbero essere celebrati a breve. Abbiamo un obbligo tanto morale quanto di diritto, quello morale che dobbiamo rispettare le condizioni in cui al momento una serie di famiglie si trovano e quello di diritto e quindi quello procedurale per capire effettivamente cosa è successo solo in modo scientifico altrimenti sarebbero delle allusioni che non fanno bene a nessuno e neanche all'indagine in corso. In procura Benevento si è recato stamane anche Guerino Gazzella per chiedere al pubblico ministero il dissequestro del locale frequentato dalla Coppia la sera in cui sarebbe avvenuta l'intossicazione alimentare al momento non confermata da nessun dato certo. Siamo ben fiduciosi perché come più volte abbiamo detto i nostri prodotti sono certificati, sono stati utilizzati dagli stessi titolari della struttura, altre persone hanno utilizzato tutti i prodotti della pizzeria e non abbiamo notizia alcuna di intossicamento o di malore di alcune. Una chiusura prolungata ci fa scontare una pena che francamente riteniamo di non dover assolutamente espiare. Ancora violenze e intimidazioni ai danni degli operatori sanitari. Un autista del 118 è stato minacciato con una pistola a Villaricca nel Napoletano da una presunta guardia giurata che pretendeva di far spostare il mezzo di soccorso e servizio di Filippo Notari. Minacce con una pistola un autista del 118 per costringerlo a spostare un'ambulanza che era impegnata in un intervento di soccorso in un condominio. È accaduto lunedì pomeriggio in via della Libertà a Villaricca nel Napoletano. L'uomo che si è poi qualificato come una presunta guardia giurata. All'arrivo dell'autista ha indicato l'arma che aveva alla cintura e gli ha intimato di muoversi. L'operatore del 118 ha subito allertato le forze dell'ordine. Ma a quel punto l'uomo si è dato alla fuga. È evidente una cosa. Se è vero che questa persona, se fosse vero che questa persona è una guardia giurata, ovviamente gli va levato immediatamente il porto d'armi. Due, se fosse vero che questa persona è una guardia giurata, va valutato se può continuare a svolgere queste attività, perché a quanto sembrano alcun senso della misura. E in ogni caso l'utilizzo delle armi sta diventando una cosa assolutamente ingestibile sui nostri territori. L'episodio di violenza denunciato dall'Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. è l'ottantesimo subito da inizio anno dai sanitari delle ASL di Napoli 1 e Napoli 2. Io vorrei ricordare a tutti che era stato promesso un intervento con le telecamere a bordo. È stato promesso addirittura che nei pronto soccorso sarebbero arrivati soldati, poliziotti, che non sarebbe stato possibile più commettere azioni violente. Voglio ricordare a tutti che ad oggi è successo poco e niente. Purtroppo ne viviamo ancora in una società in cui molto spesso, se non sempre ovviamente, l'attività politica si fa con gli annunci e non con i fatti. Una rete di frodi collegata ad un presunto scandalo dei ristori Covid che potrebbe coinvolgere oltre un milione di euro. Queste quattro misure cautelari firmate dal GIP del Tribunale di Avellino con due indagati finiti in carcere e altri agli arresti domiciliari. I reati contestati spaziano dalla truffa aggravata ai danni dello Stato all'autoriciclaggio con uno degli indagati anche accusato di falso in bilancio. Le indagini condotte dalle fiamme gialle irpine sono state coordinate dal procuratore della Repubblica di Avellino Vincenzo Russo che ha dedicato sforzi considerevoli per smascherare questa rete di truffatori altamente organizzata, secondo l'ipotesi investigativa. Malviventi ancora in azione a Salerno, tentato furto in un centro estetico della zona orientale. La preoccupazione della titolare e dei residenti al microfono di 8 Channel, intanto il sindaco dice installeremo più telecamere nei rioni. Ce ne parla Sara Botte. Hanno forzato la Sara Cinesca, rotto la vetrina, ma si sono trovati davanti un muro e sono scappati via a mani vuote, criminali ancora in azione nella notte a Salerno, preso di mira questa volta un centro estetico in via Fiume. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sul caso e i militari hanno acquisito il filmato di videosorveglianza del vicino ufficio postale. Amara la sorpresa dei titolari dell'attività. Sono venuta qua, naturalmente ero abbastanza tranquilla perché sapevo che là dove avevamo sfondato, erano andati via perché dietro c'era il muro, hanno avuto la sorpresa, però naturalmente c'è il danno psicologico più che altro perché vedere una cosa tua danneggiata, violata, comunque si senti violata. Si tratta di una zona già presa di mira dai malviventi nei mesi scorsi. Qua bene o male, nella nostra zona non si sente più rubare, fare queste cose. Io penso che sia gente da fuori. Ci sono delle persone di buona volontà che vogliono fare dei lavoretti senza molta sforza evidentemente. Fortunatamente avevamo 434 vici ma io qua non ne ho visto manco uno. La mattina chi si alza per andare a lavorare e chi non dorme la notte e pensa di sbarcare il lunario in modo diverso. Il sindaco di Salerno ha ribadito l'impegno per tutelare la sicurezza di cittadini e imprenditori del territorio scoraggiati da queste escalation di furti e rapine in città. Faremo tutto quanto nelle nostre possibilità per aumentare la percezione della sicurezza mettendo qualche telecamera in più, verificheremo i modi e i tempi insieme al questore e al prefetto. Ad Avellino è intervenuta la Caritas per soccorrere un clochar polacco che da giorni dormiva davanti alla chiesa di Santa Rita. Il quartiere si era mobilitato ma Don Vitaliano nella sala sottolinea la difficoltà nell'aiutare queste persone. Il servizio è di Angelo Giuliani. Dormiva da qualche notte all'esterno della chiesa di Santa Rita ad Avellino. Lui è un senzatetto polacco originario di Cracovia. In suo soccorso oggi è intervenuta la Caritas ma anche il quartiere in questi giorni si è mobilitato offrendogli pasti caldi e qualche caffè. Vedevamo che questo signore stava sotto una pioggia, una pioggia quanto battente perché naturalmente tutti quanti ha attirato l'attenzione di tutti, del quartiere, chi ci ha portato il caffè, chi gli ha portato qualcosa da mangiare. Io mi rivolgo principalmente alle autorità altrimenti qua assistiamo solo a tante tragedie che si succedono di tanto in tanto. Anche il parroco Don Antonio Dente ieri lo ha ospitato all'interno della chiesa ma è chiaro che non poteva essere quella la soluzione definitiva in questi giorni di pioggia e con il freddo che incombe. E allora stamattina anche grazie all'intervento dei carabinieri l'uomo è stato convinto a trasferirsi al dormitorio della Caritas. Noi abbiamo in mente i film o le favole della piccola fiammiferaia che uno l'aiuta e lei è riconoscente ma nella realtà purtroppo non avviene sempre così. Spesso non sono sincere se dicessero immediatamente quali sono i loro problemi noi interverrimmo in qualche modo ma a volte hanno si vergognano, hanno paura, non si fidano, confondono la Caritas con la questura. Insomma i problemi sono tanti. Tragedia spiorata la scorsa notte nel Sannio per un incendio divampato in una casa a causa di un corto circuito. Madre, padre e due figlie si sono salvati calandosi da una finestra. 27 persone evacuate. Servizio di Alessandro Fallarino. Un'abitazione di due piani distrutta, una persona in ospedale per aver inalato fumo e 27 persone evacuate nella notte. Dramma sfiorato nel Sannio, nel centro storico di Foglianise dove un incendio è divampato intorno alle 3.30 in una casa all'interno della quale stavano dormendo una coppia e le loro due figlie. All'improvviso probabilmente da un figurifero si è scatenato l'inferno. Le fiamme nel giro di pochi minuti hanno avvolto il piano terra e anche il primo piano dove tutti dormivano. È stata una delle ragazze a svegliarsi per il fumo e a far scattare l'allarme. Imprigionati, tutti al piano superiore, sono stati salvati da un vicino di casa che ha hissato una scala lungo la parite. Numerosi vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. Difficoltà per raggiungere l'abitazione a causa dell'unica strada, troppo stretta per i camion dei pompieri. Sul posto nella notte anche il sindaco di Foglianise. Io sono stato avvertito dai carabinieri alle tre e mezza e sono andato subito sul posto insieme al vice sindaco, proprio per accertarci la situazione. Fortunatamente le persone non hanno subito nessun danno. Certo la casa è distrutta perché poi il soffitto era in legno. Sono state evacuate nel momento, hanno evacuato sia i carabinieri che i vicini del fuoco, quel momento in cui è successo l'incendio, però dopo alle otte e mezza, alle nove, sono rientrati ognuno nelle proprie famiglie perché l'incendio è stato domato. L'accoglienza per persone con disabilità cognitive, il MAN di Napoli lavora su percorsi di inclusività e con la fondazione Focus questa mattina ha presentato il progetto a cura di Paolo Giulierini. Ce ne parla Maria Teresa De Lucia. Rendere il museo più inclusivo e fruibile alle persone con disabilità cognitive è l'obiettivo di sostare al MAN a cura di Paolo Giulierini, un'iniziativa nata da una collaborazione tra il Museo archeologico nazionale di Napoli e Focus. È l'ultima tappa di un percorso sperimentale dedicato al rapporto tra i bimbi affetti da spettro di autismo e i musei. Come oggi un museo può essere più inclusivo rispetto a questo tema, quali sono le ricerche e gli sviluppi perché si possano sentire veramente a casa i bambini che poi sono i futuri cittadini che hanno questa difficoltà. Questa mattina la presentazione del quaderno dedicato alla prima ricerca azione condotta in Europa che il MAN ha promosso in collaborazione con il centro Argo di Focus. Accessibilità significa non porsi solamente un problema di barriere architettoniche ma chiedersi come e in che modo tutte le comunità che abitano una città, quindi anche le persone con disabilità cognitive possono e hanno diritto e devono avere gli strumenti per poter accedere e godere della bellezza di un museo. Lo studio che mette a confronto le azioni inclusive che si stanno realizzando a favore delle persone con disabilità cognitive nei musei delle 100 principali città del mondo ha visto la partecipazione attiva di esperti ma soprattutto di utenti. Questo progetto è una delle tante tappe che noi dobbiamo affrontare per fare in modo che la persona disabile non sia più vista come un problema ma come un'opportunità, come una ricchezza e come persona e quindi anche la cultura fa parte della nostra vita. All'Istituto Van Vitelli di Napoli Open Day per la cura della psoriasi, una diagnosi tempestiva della malattia può fare la differenza. Arriva in Campania l'esperienza al centro, la campagna di informazione che riporta l'attenzione su psoriasi e artite psoriasica e aiuta le persone a riconoscere i primi segni e sintomi di un eventuale coinvolgimento delle articolazioni per favorirne una corretta gestione. È una patologia che spesso viene un po' misconosciuta, viene un po' trascurata, invece essendo una malattia che può avere delle conseguenze non solo di tipo sociale perché è una malattia che si vede sulla pelle ma anche di tipo sanitario per la salute perché è una malattia sistemica, una malattia che può coinvolgere le articolazioni, che può coinvolgere il metabolismo, quindi tutta una serie di patologie associate. L'iniziativa farà tappa all'azienda ospedaliera universitaria Luigi Van Vitelli di Napoli con un open day dove a partire da oggi i pazienti che lo desiderano potranno soffrire di consulti specialistici gratuiti. Una diagnosi tempestiva della malattia psoriasica può fare la differenza. La diagnosi tempestiva è importante perché, come dicevo, l'infiammazione non si spegne in assenza di terapia per cui il paziente da una parte abbiamo il problema del dolore cronico a cui molto spesso il paziente non riesce a dare una risposta che si associa ad una invalidità e quindi ha la possibilità di eseguire normali attività quotidiane e poi perché se l'infiammazione non viene spenta questo si traduce in un danno articolare irreversibile. E con questo servizio si chiude il nostro Tg curato in regia da Aldo Fenizia. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti.